Ciao a tutti, dopo l'intervento che ho fatto l'altra volta, su cui che lei va al bar a leggere il giornale, che non lo mola mai, che lo mette sotto il culo, che bisogna begare per leggere, mi ha telefonato da diverse parti, mi ha telefonato da torbola, mi ha telefonato da riva, e mi ha detto, ti hai ragione, pensa che in Europa anche le pagine che c'è dentro, mi tira fuori la pagina se porta a casa e se porta a casa direttamente il giornale, allora mi ha detto, fammi piacere avanti anche tu per 2-3 volte, allora mi vago bene avanti, la notizia di questa settimana qui però, la mi avevo data da un articolo del mio amico Renato Veronesi, è il più bello assessore che è Arco, non è un assessore si bello che noi potremmo mettere in campo, e lei è una notizia che fa Gheffaria Gola senza dubbio, e al presidente del CONI nazionale Giovanni Malagò, Arco su 17 mili abitanti, compreso Meneodo, quel Gheffaria 15 mili, quindi c'è dentro di lui, pensa che 10 mili fa sport, una moltitudine, è una proporzione che non aveva neanche la Germania dell'Est quando si chiamava DDR, e che erano i comunisti, una proporzione così, Arco è dappertutto, allora vi leggo su anche i sport, bisogna che lezza per tenere la memoria, pensa che Arco gli fa, calcio, pallavolo, climbing, atletica, nuoto, volo, arti marziali, basket, scacchi, tennis, ping pong, ciclismo, vela, sì, baseball, twirling, golf, ippica, pesca, tiro con l'arco, hockey, kitesurf, ginnastica, vinsurf, resta fuori la pelota basca e scarambola in busa, quello che ti fai una volta con le ballotte di vetro, dopo che dentro tutto, va a finire, va a finire che Arco, l'unico che non farà sport, l'è il mio amico Ezio Basca che l'ha sempre sentato qui sulle banchette davanti alla cassa rurale, penso di essere abbastanza coinciso perché mi ha telefonato Roberto De Laurentiis e mi ha detto bisogna che ti strucchi migo lì in depo, ora pensate a fare come fa lui quando parla domenica sera alla televisione che per sapere i risultati delle partite di calcio ovviamente stai lì fino alle 12 e mezza, vi saluto e vi garantisco che stavolta vi garantisco che la prossima volta anche il mio amico Beppi Paia, saluto a tutti quanti e arrivederci. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!